Sulle aree della libertà è un premio che dà una possibilità di riconoscimento del percorso che viene fatto in carcere da tanti detenuti, nello studio, nella cultura, nell'approfondimento, nella espressività attraverso la poesia, le arti figurative e tutto questo concorre a dare senso alla cultura costituzionale della pena, che ci dice che le persone detenute debbono sì scontare la loro pena per quello che hanno fatto, ma debbono avere una prospettiva di reinserimento sociale. Questo recentemente ha ribadito la Corte Costituzionale con un'importante sentenza a favore dei permessi premio, anche per i detenuti per fatti gravi e gravissimi, laddove ovviamente questo percorso possa essere valutato. Un premio, un'attività come questa concorre al perseguimento di questo fine.